E' un lettore musicale. E' un lettore musicale ad alta fedeltà. I ragazzi infilano il loro... Sapete cosa? Nella vagiporta... La ventola poi shakerà il loro... Beh, sapete cosa? L'abbiamo testato a lungo. Qualcosa da dire? Ah. Aiuto! No, 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 no! Ah, accidenti morde. Non potrebbe essere più esplicito di così. Boom! Obbligo a verità? Obbligo. Vedi quel bambino cieco? Spegni le candeline sulla torta prima di lui. Oh! 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 Grazie.